Ciao a tutti, io sono Garibaldi, ho 9 mesi e questa è la prima volta che vengo in toilettatura La mamma ha detto, fatemi tutto quello che è da fare Tra l'altro abbiamo un sacco di nolli, ma noi come sempre iniziamo Prima dalle unghie Ciao, ciao ragnone Ok Opla E voilà, vediamo per il niente Bravo Garibaldone Questa sì Questa anche No Opla, che ciccione Fermo, fermo No 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 E quindi dell'ultima Stiamo finendo la nostra svanatura e snodatura È veramente pieno Guardate già quanto, tra nolli e sotto pelo, quanto gliel'abbiamo tolto Garibaldino Guarda, questo qua è tutto il nostro pelo tra nolli e sotto pelo che abbiamo tolto È arrivato il momento di andare a casa, vai Opla Non vogliamo entrare Dai Ragazzone Poi Io resto qui Dai, una zampa rinfilata Filo anche l'altra Dai Culone Guarda, metto anche la terza Terza c'è Bravo Quarta Quarta La cosa lasciamo qua Guarda Ce l'abbiamo fatta Volevo stare in giro Qua zia Ma Già andiamo a casa Volevo ancora un po' di snodature e snodatura Ciao ciao Ciao